è andata a Castellamare di Stabia, si torna in campo al Flaminio la prossima settimana. Ascoltiamo l'allenatore della Juve Stabia, Braglia, perché partendo dalla riduzione della capienza del Flaminio per sabato prossimo poi si lascia andare a una critica abbastanza eloquente, non solo del mondo del calcio italiano, ma del nostro paese. Io credo che a Roma debbano venire tifosi come vanno a vedere il rugby in 35.000, queste sono tutte cavolate e organizzate apposta perché sono organizzate apposta e non ho problemi a dirlo perché non esiste fare una capienza a 4.100 spettatori. Quando la domenica avanti ne sono entrati 7.000, quando gioca il rugby ce n'è 35.000, cioè decidetevi, decidetevi. Se volete fare le cose per bene, se volete avvicinare la gente al calcio, fate venire le persone, gli spettatori, al di là di tutto, se uno è messo bene politicamente oppure politicamente non sono messo bene. Cioè il calcio è il calcio, se volete il rispetto del calcio, sennò continueremo a parlare di scommesse tutti i giorni. La politica nel calcio non ci deve entrare, le scommesse nel calcio non ci devono essere, i giocatori non devono fare le scommesse, chi scommette deve essere radiato, punto, vedrai che non gioca più nessuno, capito? Invece continuiamo sempre, perché siamo un paese del cavolo, però ci si nasconde sempre, noi ci si nasconde sempre, noi una responsabilità ne prendiamo mai in Italia. In Inghilterra ti mettano dentro, qui ti danno il daspo, ma che cacchio gliene frega del daspo alla gente che è un delinquente? Dai, mettilo in galera due o tre mesi, poi vedi che quando c'è da ritornarci in galera ci pensa. Sarebbe l'ora di farla finita, sarebbe l'ora di farla finita, ma però siamo un popolo che ci piace girarci intorno, no, non si fa le leggi e poi ci si gira intorno, da altre parti fanno le leggi e le applicano. La Fianza è tutta qui.